Diciamo che questo è un FD44K rinforzato con del cromuro, cromuro è una porcata, tu vedi che qua ci manca un dente, vedi? Io adesso faccio un'operazione di ruotazione di 180 gradi, metto quel dente là, così il carro, anziché fare rinculo così, fa rinculo così, capito? Dici che non c'è? Dici che non c'è? No, no, no. Ma bene se li passo? Non mi date da bere, siete degni... È solo figo. Non so cari...